Ciao a tutti, sono MyDrama. Come potete vedere sono nel mio mini studio, ovvero una parte della mia camera in realtà. Una parte veramente fondamentale e mi ha aiutato a costruire questo percorso che per me ad oggi è veramente importante. Ho partito tutto da qua, da questo piccolo spazio e sono andata a finire in studi veramente grossi davanti a persone professioniste. Faccio parte della categoria under donne, quindi sono con il giudice Raton, cuoricini. Quando è sceso dalla macchina Raton volevo arrampicarmi da qualche parte, volare in aria, perché penso che oltre che essere davvero concreto e sincero, è un giudice dal quale posso imparare tanto e con il quale posso assolutamente lavorare, perché comunque siamo circa sugli stessi generi, ma ci capiamo davvero tanto anche a livello empatico, comunque a livello di persona. Sono veramente contenta, ragazzi. Io non sono una persona di tante parole, ma tutto quello che provo lo incanalo dentro la parte musicale, la musica. So che ci divertiremo un sacco, so che sarà veramente bello partecipare ai dive con tutti gli altri compagni che ho conosciuto. C'è un'alta competizione, un obiettivo che sicuramente condividerò al 100%, perché non ci possono e non ci devono essere filtri. Voglio far conoscere la mia parte emotiva, sentimentale, la parte caratteriale, la parte musicale, insomma un po' tutto a 360 gradi, quindi trasportarvi nel mio mondo musicale. Per me l'importante è far passare il messaggio, è un messaggio che è da tanto tempo che voglio comunicare e finalmente ho l'opportunità giusta per poterlo fare, quindi spero che seguiate bene fino in fondo il mio percorso e ci vediamo in live, ragazzi.